buongiorno sono sergio scamuzzi insegno sociologia e volevo presentarvi alcuni temi e concetti della sociologia a partire da un'opera d'arte che vi può sembrare un po strano questa è una riproduzione di una serie di ritratti di Marilyn Monroe una famosa attrice degli anni 30 40 50 in america tuttora famosa per tanti film che forse avrete anche visto bene fatta da Andy Warhol un autore particolare che lavorò sulla pubblicità all'epoca in cui questa diventò importante per la prima volta negli Stati Uniti perché questo soggetto può interessarci per capire qualche cosa della sociologia e di conseguenza della società beh anzitutto perché come vedete sono varianti di colore della stessa fotografia l'immagine che ci viene proposta della Marilyn Andy Warhol la realizzò anche con modalità simile su altri soggetti che facevano parte della pubblicità di allora famose le sue zuppe di conserva famose le sue scatole di detersivo l'applicò persino un ritratto del presidente Mao che negli anni 60 divenne piuttosto importante ecco perché perché Andy Warhol voleva praticare ma anche mettere a tema la riproducibilità degli oggetti e quindi anche delle opere d'arte con le moderne tecniche grazie ai suoi nuovi input provenienti dalla pubblicità per noi sociologi una figura come queste colgono pienamente una caratteristica della società fordista Ford con le prime automobili popolari degli anni 30 in grande serie offrì il modello a un tipo di produzione che poi si applicò a tutti i beni di consumo e ne croa creò anche di nuovi i consumatori grazie a questi beni di consumo economici proprio perché riproducibili in grande quantità divennero molti e consumarono molto come non era mai successo consumi che una volta erano alla portata solo di nobili borghesi pensiamo alle auto come quelle che vedete al nostro museo dell'auto furono alla portata di tutti che resero a tutti una possibilità di felicità fecero cioè la società di massa basata sui consumi di massa Andy Warhol fece molti quadri come questa Marilyn che è del 1967 ciascuno con varianti di colore sulla base della stessa fotografia l'immagine proposta mette insieme varie Marilyn Marilyn fu uno solo dei soggetti di un progetto procedimento analogo lo applicò a scatole di detersivo lattine di zuppo di conserva altri attori persino il presidente della cinema Andy Warhol voleva così praticare e mettere a tema la riproducibilità dell'opera d'arte con le moderne tecniche e grazie ai nuovi soggetti prodotti dalla pubblicità pubblicità di cui lei lui negli anni 60 era molto curioso e interessato e questi oggetti erano i primi oggetti di pubblicità per noi sociologi queste immagini sono molto interessanti perché ci illustrano benissimo colgono bene una caratteristica della società fordista il prodotto standardizzato di massa economico e disponibili in moltissimi esemplari ford con le prime automobili popolare in grande serie offrì dagli anni trenti in poi il modello di questo tipo di prodotto di produzione che si applicò poi a tutti i beni di consumo e ne creò anche di nuovi grazie al fatto che erano tanti che erano economici anche i consumatori divennero molti molte persone molte più di che in passato non più solo i nobili borghesi ebbero un'automobile alla propria portata e ne trassero soddisfazione e felicità una soddisfazione e una felicità prima sconosciuta queste persone questi consumatori fecero la società di massa basata sui consumi di massa perché di massa perché era una collettività fatta di individui che sceglievano individualmente tutti lo stesso prodotto ma come individui isolati tra di loro non erano più una comunità ciascuno aveva i mezzi per acquistare un bene alla sua portata con una scelta indipendente ma di un bene uguale a mille altri che però finalmente era anche suo quindi una massa di individui non collegati tra loro se non dal consumo l'organizzazione delle fabbriche per produrre questi beni poteva e doveva essere altrettanto standardizzata uniforme prevedibile poteva tendere ad ingrandirsi per produrre di più assumere sempre più operai che diventavano anche dei consumatori i prodotti erano standardizzate sostituibili si prestavano quindi una produzione uniforme rigida nelle sue tecniche e nella sua organizzazione a mansioni semplificate e ripetitive sempre le stesse dei lavoratori l'effetto fu che sviluppo occupazione benessere per alcuni decenni fino grosso modo agli anni settanta del secolo scorso poterano sostenersi a vicenda questo fu ed è ancora per quelle produzioni per quei paesi in cui ancora è presente il taylorismo fordismo marylin moro era uno di questi beni rapidamente diventata un'icona della femminilità compariva con i suoi film in tutti gli stati uniti e poi in europa materialmente le stesse sue immagini erano presenti in ciascuna delle copie dei film distribuiti in migliaia di sale cinematografiche e ognuno dei milioni di spettatori che andavano in queste sale cinematografiche poteva godere della sua marylin poteva fare proprio il sogno di questa femminilità il cinema diventava rapidamente così una nuova forma di arte e di consumo culturale la cultura cominciò a diventare un consumo soddisfacendo appieno il requisito della riproducibilità lo stesso film visibile ovunque il fenomeno si replica in tutti i paesi che iniziano uno sviluppo industriale oggi per esempio è stato negli ultimi vent'anni il turno della cina di alcune regioni dell'india e dell'africa fordismo taylorismo società di massa consumi di massa tutti i fenomeni collegati concetti fondamentali però anche dell'analisi sociologica riuniti in un concetto più ampio che quello di società industriale quanto all'arte walter benjamin grande critico d'arte intui la nuova fase della produzione culturale nuovi suoi oggetti che non godono più di quell'aura di unicità che poteva avere la gioconda piuttosto che il giudizio universale di michelangelo ma sono a disposizione di tutti numerose copie fruibili individualmente questo stimolo anche una bellezza di consumo il design che negli anni cinquanta è stato forse la manifestazione più razionale e più consapevole della possibilità di riunire bellezza e funzionalità e la dimostrazione che forse la bellezza non aveva bisogno sempre della unicità con ciò vi ho presentato alcuni dei concetti di base di un qualsiasi concetto di base di sociologia come quello che io faccio per il corso di laurea in innovazione comunicazione e nuove tecnologie sotto l'etichetta di società della rete